Salve e buongiorno a tutti. Allora questa mattina ho preparato questo infuso di origano con del limone e un cucchiaino di miele. Allora di solito viene adoperato per condire specialmente le insalate d'arance che si fanno in Sicilia, ma anche si può condire la carne, pesce e insalate varie. Questa pianta contiene proprietà benefiche per il nostro organismo. Contiene del foneolitico, vitamina A, C, calcio, potassio, manganese e antiossidanti. Allora per le varie proprietà ci sono proprietà, rimedi naturali e un antibiotico naturale. Protegge le vie respiratorie in caso di raffreddore e tosse. Per il raffreddore si possono fare delle inalazioni aggiungendo degli oli essenziali di origano oppure si può preparare l'infuso e berlo più volte al giorno. È antinfiammatorio e antisettico grazie alle sue proprietà antifuggine. È valido anche per i funghi delle unghie. È anche un prodotto analgesico per alleviare dolori muscolari, mal di denti, mal di testa oppure d'orecchie. Anche in caso di mestruazione dolorosa. È anche un antiossidante e consentono di migliorare le nostre difese immunitarie. È un ottimo digestivo grazie al potassio. È ottimo per tenere sotto controllo la pressione sanguigna, se alta. È ricco di omega 3 che contrasta l'infiammazione in tutto il corpo e aiutano a prevenire le malattie cardiache. Ha anche proprietà di distruggere delle cellule cancerogene ed autodistruggersi da soli. La sua azione è stata testata per quanto riguarda il tumore alla prostata. L'unico, diciamo, gli inconvenienti e le controindicazioni sono se qualcuno soffre di gastrite, ulcera, peltica, oppure le persone allergiche all'origano e non è consigliato per le donne incinte. Le dosi sono una tazza d'acqua, si fa scaldare, poi si mette l'origano, si lascia un quarto d'ora, si aggiunge il succo di mezzo limone e l'altro mezzo limone si taglia a fette e si lascia per altri cinque minuti. Quando è freddo si aggiunge anche un cucchiaio di miele. Diciamo che una tazza alla sera fa bene, si può tenere in frigo per un massimo di un paio di giorni, quindi fatene poco. Ok, vi saluto, è stato un piacere e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.